come trasmettere in diretta su x ovvero twitter molto semplice sul nostro profilo in basso a destra dove c'è il simbolo del più clicchiamo si apriva questa schermata dove c'è scritto appunto go live clicchiamo qui accanto si aprirà quindi la schermata che vi consentirà di andare in diretta possiamo scrivere un testo come di titolo della diretta dopodiché possiamo girare la fotocamera possiamo accendere il flash togliere il flash e cliccare vai in diretta in questo momento sono in diretta quindi dopodiché per stoppare la diretta dobbiamo cliccare in atta a sinistra la x termina diretta interrompi la smissione come avete visto è molto semplice trasmette in diretta su x ormai vecchio twitter vi ricordo che potete trovare spiegato semplice anche su telegram vi lascio tutti i link in descrizione mettete un like commentate e condividete il video ciao 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 ciao